Non lo è per esempio, vedo le coppie dei pubblichi e del gas. Ma questo è la sera, perché non è stato il gas. Allora, tra voi tre. Uscite a te l'altro, andate a te l'altro lato. In un'abbastanza ringiornata, un bacetto sulla guancia a Roberto. Roberto, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Tu scederai la 1, la 2 o la 3. Ora, questa è la 1, la 2. La 3, solo un bacetto. Sono a posto. Gli occhi chiusi, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 4. Ok. Perciò, mi riferisco, mi riferisco. Gli occhi chiusi, bacetto sulla capoccia. La 1, sulla testa, o la 6. O la capoccia. La 1, grazie. La 2, fate concentrare il salto. Alessandro, 2, 2. Grazie, Berta. La 1, grazie. La 1, grazie. La 1, grazie. La due. Stiamo occhi chiusi. La uno o la due? La due. La due. La due. La due. La due. Passo a sentire. Allora, qui. Perfetto. No, no, tutto qua. Sulle topi. Sulle topi. Ok, inizia. Allora, è il vostro. Allora, è il vostro. Sì, è il vostro. Le vostre. Ok. Ok, e il sito? Apenis, apenis, occhi chiusi. Le signore occhi chiusi. Hai un primo letto. Non ti hanno scelto. Scelto. Ok. Nessuno l'indicato. Beccato. Per esempio. È il vostro cartelliere di papà. Partiamo da uno stadio di... sapete di Randolina cosa pensa di questo tipo di uomo. E... Andiamo. Avete un petto. Avete giornata, serata. Partiamo da... Cioè, la troverà, la troverà... A... Chissà che uno l'abbia già trovata. No? Tutti i passaggi che ci sono nel monologo, vi sapete. Arrivare fino a... Questo è un uomo che amo. Ammettere che riuscirete ad amarlo. Abbiamo fatto un'analisi, no? In possibilità di amare... Adesso noi la forziamo, le analisi. Partiamo da là, diciamo... Eh, che vede, la signora so io... Lo faremo questo. Fino ad arrivare a... È il mio uomo. La stiamo forzando. Tutto questo in una decina di minuti. E nella vita ci vogliono sei mesi, in un anno. C'è una ricerca che chiama? Non sono... Non sono... No, è... Senza parola. Senza parola. Danze, carezze, facetti, pompini... E tutto ammesso. Ok? Eh, lo so. L'uomo io vengo a partire sotto la Russia. Ma non credo che succederà. Mi dispiace per voi. Non succederà. Non si sa mai, è vero, la Russia. Ma... Vediamo. Vediamo. Work. Non dovete ricercitare, no? Bisogna fare il vostro viaggio. Potete iniziare subito. E il punto d'attenzione, comunque, anche Lucca Candesco, è lui, eh? Eh... Quando devo... Voglio capire quando smettete di... Di usare... Quando decidete che... Si parte, come facciamo sempre. Quando decidiamo che... Sto cominciando... Deve essere subito il grado... A 100, al massimo. Però... Sarà anche 0,1. Ma adesso... Sono fuori. Adesso sto cominciando. E adesso... Da quel momento lì... Non potete più uscire, eh? Avete il tempo che volete, prima. Ma dopo non potete più uscire. E teria delle sottili porte dal vooral per il pieno. Estate ok? automotive mazza... Quindi. Tutto. 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 Tutti. Tutto. 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 Grazie. Ovviamente il cavaliere reagisce, siccome no, non è che è morto, il cavaliere sta aiutando perché il lavoro è sulle mirandoline, ricordatevelo come attori, siete in aiuto. Il cavaliere reagirà, parte dal suo stadio e si fa portare, parte da io questo tipo di donne non le sopporto, questo come da analisi del testo, dopodiché se lo stiamo inventando noi si fa portare. Grazie. 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 Se non vi convincono, non vi convincono, come da bocino, però se vi convincono, io credo ai cavallieri adesso, i cavallieri stanno arrivando in giro, io credo a loro. Uno di voi è me, fa le mie veci e potete essere cavallieri insieme, no giudizio, la vostra anima aperta, la vostra sensibilità aperta, mi fido di voi. Grazie. 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 E aggiungo una cosa, lavorate per le mirandoline, quando cominciate a guardare intorno a un dato, fate un occhio per cui avere il controllo della strada lavorate e si riesce anche, si sta dentro e sfancare il controllo. Quando mi rendo conto che la maggior parte delle mirandoline sono arrivata al point e io sono molto indietro, ho l'obbligo, il paletto e le devo recuperare. Cerchiamo di andare insieme, no? Tutto il percorso va bene, può durare quello che vuoi, però abbi coscienza di dove sono le armi mirandoline, a che punto sono arrivati. Non puoi arrivare al point mezz'ora dopo e ti direi a te mirandoline. Ok, allora, tra dieci minuti, tra dieci minuti, penso che. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 che faccio il suo vantaggio Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!